Ivan Speranza, intanto una curiosità. Appena finita la partita ho visto un animato battibecco, se così possiamo definirlo, con la padula o mi sbaglio. Cosa è successo? Sì, sì. Siccome c'era stata l'ultima punizione dove è stato espulso di Erna, noi facciamo uno schema su quella punizione. Poi l'albitro ci ha detto che comunque se ci mettevamo lì in quella posizione chiamava il fuorigioco. Quindi avevo chiamato un po' tutti quelli che stavano lì davanti di toglierci da lì e poi purtroppo Gianluca ha calciato e ha preso a Diachi. Quindi c'era questo teatrini, abbiamo fatto lì, però niente di che. Siamo chiariti quella situazione che è successa. È un pareggio comunque da catalogare positivamente, perché comunque è ancora un campo difficile. Certo, come abbiamo visto comunque squadre come Ascoli e Reggiano sono andate lì a perdere, quindi un campo ostico. Siamo stati bravi a portare almeno questo punto a casa, che non era facile, poi su un campo non in ottime condizioni. Quindi per noi facciamo fatica infatti a costruire subito da dietro, perché comunque dovevi fare al minimo due tocchi con la palla. Quindi siamo andati un po' in difficoltà in quello, però un ottimo punto. Il prossimo avversario è il Gubbio, che a livello di risultati non sta attraversando un buon momento, però anche a Ferrara ha avuto diverse occasioni. È un osso molto duro. Sì, sì. Magari in questo momento non sta brillando come aveva fatto negli ultimi mesi, però secondo me è una squadra molto forte. Quindi dobbiamo andare lì, come stiamo facendo nelle ultime partite, concentrati, con la testa giusta per portare a casa il risultato. Anticipiamo le parole di Vivarini, non commettete fallo dai 30 metri in giù. C'è lo viso. Sì, sì, lo sappiamo, quindi dobbiamo stare attenti. Magari avevamo preparato anche con l'Ancona in cui se ci fosse stato Bondi sapevamo che c'aveva un gran piede, quindi è la stessa cosa. Dobbiamo stare molto attenti a non far fallo a limite d'aria per non crearci dei problemi per noi stessi.